Con il grande successo per Perpino Di Capri che ha festeggiato i 60 anni di carriera al Teatro San Carlo di Napoli percorrendo tutti i suoi classici, un appuntamento sold out da moltissimo tempo, tante le richieste al punto che il Massimo Partenopeo ha fissato per il 9 giugno prossimo una seconda esibizione dell'artista. Grazie a tutti Vivo Capri Non mi manca il mare Non mi riconosco più Forse sto invecchiando male Forse è che mi manchi tu Non parlare poi con chi Non mi amici quelli veri Per se sei rimasta tu In modo introduttiva c'è il nostro amico Consola del Pakistan Posso parlare un attimo? Allora signori Signori buonasera Io vado un attimino al di là delle cose ufficiali perché stasera è una bella serata Io ho l'onore di conoscere Gennaro Sguro da circa 45 anni perché? Perché tanti anni fa c'era un cine club a via Orazio e c'era un'esposizione di alcune opere in scultore Io mi innamorai di un'opera e io me la comprai mi pare che all'epoca spesi 4-5 mila lire Una cosa molto bella che ci ho ancora conservato in camera mia Poi ci sono stati degli eventi che ci hanno fatto stare insieme In effetti sia con il ministro pakistano il quale era un ministro cattolico che fu Shabbat Mori E in effetti lui ha fatto vari incontri per questo ministro pakistano cattolico Poi per questo ragazzo che ha 11 anni in effetti è stato ucciso dalla mafia pakistana In tutto il mondo ci sono queste cose Io vi auguro buonasera Faccio presente che sono il console del Pakistan per la Campania e per la Puglia da 31 anni E faccio soprattutto opera di assistenza a cittadini pakistani Stasera ho avuto il grande onore di essere invitato da Gennaro Sguro Ci sono venuto con tanto piacere e quindi buona serata E Peppino lo ricordo come no Che in effetti è stato l'idolo L'idolo della canzone Guardate la canzone italiana nel mondo è la canzone napoletana E Peppino Di Capri in effetti è il nostro grande Però io pensavo che era un posto Chi ci ha ospitato qua? Che cos'è qua? Allora Umberto Lavarra Lavarra La Marra dove sta? La Marra E' uscito E' timido Ma la sala Si chiamava Viss Radio Però No Qua dietro Era sempre un bet Che c'è una proprietà Allora Allora Giù sbagliate Vi prego In una giù sbagliata I salaggi pazzi Ma c'è bella Siccome era enorme In questa cosa qua dietro Io ho inciso due canzoni Luna Caprese e Voce Notte Voce Notte che ci inventammo Una scatola No forse era l'una Una scatola con i fagioli dentro Facciamo così E facciamo il mare Infatti è rimasto storico Questa cosa Che sembrano i ciotoli I sassi che stanno a Capri Ti scassi i piedi Quando c'è E quindi ricordava queste onde Così E cominciano Ma pare che era Voce Notte Ma poi se sapete Sei un esperto Io so quasi tu Sai cosa Tranne il mare di Voce Notte Allora Io volevo un attimo così Un Perché Le cose è festa E quindi sono tutti al mare Una giornata così bella E quello va a incocciare Il 25 Aprile Proprio La festa La liberazione E va bene Siamo liberi Già è qualcosa Quindi Adesso Che cosa succede Ognuno di voi farà un intervento Che cosa succede Parta Ci parta Qui è il regista In un solo Parta Il programma è un intervento E quindi C'è la luna e il suo mar E quindi Che cosa succede La favore è Santa Lucia Lontana di te Quanta malinconia Se giro in una zona Se va a cercare fortuna Ma guardeci per la nuona Lontana di te Quanta malinconia Se giro in una zona La favore è 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 Un voce tremante l'autunno cantava, cantava la triste espressione di un viso, cantava la grazia di un dolce sorriso, un dolce sorriso che non conosceva. Perché mai nessuno sapeva chi era. Viveva in un buco, due stanze e cucina, un unico pasto tra sera e mattina. Ma quando suonava il suo piano ascoltato, credeva di essere ricco e sfondato. Suonava ed allora quei muri ingialliti sombravano distese, i prati infiniti. Nella sua stanza, l'azzurro del cielo, chiudeva le note in un magico velo. E scrisse stupende canzoni d'amore, suonate da un piano, cantate da un cuore, che non conosceva il sapore di un bacio. E non conosceva cos'era l'amore. Diceva ti amo alla donna divina, che tutte le notti sentiva vicina. Ma quando un mattino lui si risvegliava, stringendosi al petto, un cuscino piangeva. E' il terreno nell'inverno, che morirono le viole. E nella sua stanza non c'era più il sole, la morte col freddo alle porte bussava. E allora più forte, più forte suonava, nel piano si arriva dal fischio del vento. Ma la sua canzone finì in un lamento. E il peso del corpo, sui tasti ingialliti, fu l'ultimo accordo. E il peso del corpo, sui tasti ingialliti, fu l'ultimo accordo. Allora, noi siamo qui. Siamo qui, non per Gennaro Scuro e per la sua follia, noi siamo qui perché onoreremo sempre le persone che hanno dato una breve vita, un insegnamento e ci chiediamo con un mistero enorme di questa vita come alcune diversità rispetto a quello che noi quotidianamente pensiamo che è la normalità. No, non voglio parlare con me, c'è una straordinarietà, se no alzo la voce, c'è una straordinarietà, queste persone costante ancora, riescono con il loro insegnamento e le loro cose a far capire le cose giuste e le cose ingiuste, quindi il discernimento, questo ragazzo non solo 3.000 all'epoca ha fatto salvare, ma ha salvato tanti altri, io ho avuto contatti non solo con gli Stati Uniti, ma anche con i lavori minori, i lavori in Svizzera, che è sempre una della nazionale, quindi cosa succeda in interrogarsi, cosa cambia, si unano poco pazzo o meno pazzo, si canta, si pitta, come cambia oggi, o sei peppino di campo. No, noi, è un attimo, trovare delle persone, Nobel, parapredici, che ci dicono, che ci dicono, ma in generale, non so io, parlo con tutti, che ci dicono e ci insegnano, vedete io come sono, come mi ha detto lì, se caputo, seca, Albania, questa donna che non aveva neanche la salute parte, va in un paese povero dell'India e riesce a capire una cosa, non ha niente neanche da mangiare, che mantenere le mani a chi muore normalmente per l'estate è un segno importante, e voi sapete la storia, premio Nobel, voi volete dare la festa, niente festa, i dati ai miei bambini, e ha fatto questo povero, allora il mondo si deve interrogare, non si è cristiano, si è pakistano, chi siamo, dove stiamo andando e cosa sempre abbiamo fatto, siccome io ti avevo messo negli uomini giusti, non ancora a Gerusalemme, il giorno ti dimetterà negli uomini giusti a Gerusalemme, però chi sa quante volte cantando, ti conosco il tuo amico, tu sei un grande artista, sei poeta nel buio, tu non canti, tu dipingi nel buio, tu accelli e diminuisci, no, non me ne fotte poi, non compa, io te lo dici, che l'ho sempre compa, io ho fatto a me, me ne fottute poi, il problema è che tu, forse non te ne accorgi, chi ti ascolta e ti ha stimato, note dei passaggi che tu le carezzi, i significati di alcun altro, e là dai il massimo, cioè porti all'estasi, di là del te, allora il problema rimane, interroghiamoci tutti i giorni, qualche volta cantiamo e dipingiamo anche per noi, tu mi dici una responsabilità, ti porti le tavole della vita, un applauso e capo a me, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, ha conferito a Peppino Di Capri, grande maestro, poeta e musicista, aggiungo io, orgoglio di noi napoletani, grazie di cuore, caro Peppino, bravo! no, volevo soltanto ringraziare molto, signori ancora un applauso al nostro grande Peppino! premio tavolo della legge, fatta da quel pazzo di Gennaro Sguro, per il Kbam Masic, consegna a Gennaro Sguro, happy, hurrao! maestro ma prego, tenga duro, non si muova mai! è la parola, gira, gira le tavole, le tavole, girare... bravo! e se te voglio bene, a sei tu non vienze a me, ma pure, una piccola di quale, due, 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 due... poi da domani fai 10 come andavate, noi domani in voi! 1099 999 1599 perché non offende pure la religione ebraica, le cattoliche che fa male ci è una malattia e quando dice basta e chi pensa che è là ma dove quando è muta un cielo in terra se scrive fin d'agora se legge amore tra se s'assette coppe suono il mexicano il New York e quando se ne va il mondo è 60 anni grazie per chi non è 25 ma esiste un'amora chiamata amore il mondo è l'amore il mondo un'amora che è un'amora e quando se ne va il mondo è ma è quando stanno insieme è il mondo è il mondo il mondo è 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 il mondo il mondo il mondo il mondo è è è Grazie a tutti. 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 . . ... . Grazie a tutti.